L'istruzione è il più formidabile strumento per aumentare la ricchezza di una nazione sotto tutti i punti di vista, perché il capitale è materiale, non è niente se non c'è anche il capitale umano. Per questo la scuola e l'università torneranno centrali nell'azione di governo, perché rappresentano una risorsa strategica fondamentale per l'Italia, per il suo futuro e per i suoi giovani. Si è polemizzato sulla nostra scelta di rilanciare la correlazione tra istruzione e merito. Rimango francamente colpita. Diversi studi dimostrano come oggi chi vive in una famiglia agiata abbia una chance in più per recuperare le lacune di un sistema scolastico appiattito a ribasso, mentre gli studenti dotati di minori risorse vengono danneggiati da un insegnamento che non dovesse per premiare il merito, perché quelle lacune non le colmerà nessun altro.